Tribù Rosso Nera, amici di ogni dove, amici di ogni squadra, bentornati all'appuntamento odierno con il vostro marietto milanista e anche oggi come vedete abbiamo cambiato location qui a Barcellona, vediamo quanti di voi sanno riconoscere che monumento è questo, scrivetemelo in basso, voglio vedere se siete attenti, ve lo metto lì, vi dico solo che è uno dei monumenti più conosciuti al mondo, non solo a Barcellona. Quindi rimanendo dalle notizie della Spagna, oggi sono un po' diviso tra due situazioni, una che riguarda chiaramente la speranza oggi di passare il turno in Coppa Italia perché è per noi di vitale importanza quest'anno passare questa competizione perché è la nostra ancora di salvataggio in una stagione che è cominciata nel peggiore dei modi. Però andiamo a vedere innanzitutto l'altra mia speranza per dove tira. Stamattina mi sveglio e i quotidiani AS e marca che sono quotidiani sportivi di Madrid mentre qui a Barcellona c'è Mundo Deportivo e Sport hanno annunciato due cosine interessanti che riguardano il nostro amato Milan e soprattutto il mercato. Innanzitutto c'è un forte interesse da parte del Celta per Lucas Biglia per sostituire lo Bodka e potrebbe essere un'operazione che può andare già in marcia nei prossimi giorni, probabilmente a inizio nuova settimana. Una volta terminato Milano Udinese la prossima settimana si vanno definendo diversi dettagli di trattative che sono in corso in questo momento. Attenzione che l'altra notizia è Suso tra Atletico Madrid e Siviglia e si parla di 20 milioni per dell'offerta che è stata fatta e messa sul piatto da queste due società. A parte un'altra notizia però che questa viene dalla Germania però non vi posso dare le giuste indicazioni perché mi sa che c'è più tendenza tirando verso la Spagna che non verso l'Ipsia che anche avevo letto 20 milioni. Rodriguez ormai è quasi ufficialmente un nuovo giocatore del PSV a Eindhoven e invece per quanto riguarda la partita di stasera di oggi pomeriggio alle 6 solo dirvi che in porta giocherà Antonio Donnarumma, il fratello di Gigio che ricordiamo ancora per la ultima e grande prestazione che fece nel derby di Coppa Italia di 1-0 di due anni fa marcato e vinto grazie al nostro sanguigno Patrick Cutrone, l'ultimo derby vinto tra l'altro e in difesa abbiamo la linea dei quattro con Conti, la novità Kier dal primo minuto già giocherà il nuovo acquisto Romagnoli e a sinistra Cavallo Pazzo Teornandez invece a metà campo c'è solo diciamo una novità, a parte Castiglieco a destra e Benasseri in mezzo c'è Crunice al posto di Cassi e a sinistra invece dovrebbe giocare Jack Buonaventura e davanti l'altra novità però era anche abbastanza scontata per non far giocare sempre adesso già dall'inizio Ibra Cadabra è Piontech il pistolero, vediamo se pum 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 il pistolero darà gli ultimi colpi in questa ultima partita e Raffaele Au. niente ragazzi rimaniamo connessi oggi sono tra la partita e queste news di mercato che secondo me non andrà in porto quasi nulla questa settimana perché c'è di mezzo questa Coppa Italia c'è di mezzo l'Udinese e non credo che vogliano creare troppi scossoni così di colpo però rimaniamo con sempre dico le orecchie belle alzate perché le novità sono dietro l'angolo niente ragazzi ringraziando ancora tutti coloro che mi scrivono ogni giorno veramente di cuore grazie Terence grazie a Anthony Manson grazie a tutti i miei amici lo stesso Jorge il milionario dei River Plate e tutti gli altri spero di non dimenticarvi però siete tutti nel mio cuore grazie mille perché gli iscritti stanno aumentando giorno per giorno e niente dal vostro marietto milanista con tutto il mio cuore rosso nero vi aspetto questa sera per un nuovo video mi raccomando con le iscrizioni continuiamo con campanellina accesa dategli un like se vi è piaciuto questo video e sempre forza Milan ovunque e mi dovete dire anche che monumento è scrivetemelo qua sotto e comunque ciao e buona giornata da Barcellona